eccoci qua puntuali si parte lucine varie gopro marzuppettino pronti attenti via ci vediamo dal bosco ciao ecco a coiro poi fangati fino a merda ok infatti siamo passati in mezzo a una concimata ragazzi mi sa di quelle proprio pesanti adesso attacchiamo super di qua sentiero direzione cortano ecco a coiro nutella sempre presente cacciatori rifugio dei cacciatori ringraziamo ancora una volta per l'ospitalità che bella eccoci quasi arrivati a cortano eccoci che spiezi ci ciò mottarone un po' di calorie finalmente eccoci Grazie a tutti. 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 Ciao cari, siamo arrivati al paesello, un saluto, un saluto, 30 chilometri e via, lottata in tenda e soddisfatti. Ciao giornata.